Misser, oggi al posto dello squalificato Guidi non è andata bene, però adesso approccio o non approccio? Il fatto che si parta sempre con un gol da recuperare comincia fuori casa, soprattutto a essere una costante antipatica. Ma al di là dell'approccio, noi le partite le prepariamo sempre per cercare di farle nostre, di impostare il nostro gioco e di cercare di fare il meglio possibile. Purtroppo anche oggi, come hai detto te, abbiamo fatto questa sbavatura che ci ha compromesso subito la partita. Poi, per quanto riguarda l'andamento della partita, i ragazzi mi sono piaciuti perché sono stati sempre in partita. Mister, al cospetto di un avversario forte, cos'è da sottolineare in questo termo? Che è stato comunque caparbio, coraggioso, comunque tenace e nel secondo tempo ha spinto? Proprio per questo, ti ripeto le parole che ho appena detto. Siamo stati sempre in partita, nonostante avevamo davanti un avversario complicato sulla carta perché è una squadra che ambisce ad avere altre posizioni in classifica. Comunque, per quanto riguarda l'aspetto dell'atteggiamento, della positività, ti ripeto i ragazzi hanno fatto quello che potevano. Probabilmente abbiamo concesso queste due sbavature che andremo ad allenizzare durante la settimana per cercare di migliorare questo, tra virgolette, handicap iniziale. Ad Andrea Cupi toccano sempre le sfide, spesso in trasferta contro le big. Adesso ho tolto questo, però sull'andamento della gara forse sono mancati gli ultimi 20 metri. L'ultimo passaggio, la rifinitura, nel primo tempo Malotti che invece di andare alla conclusione riapre ancora una volta, forse è mancato quello? Sì, ho fatto l'analisi perfetta. Avevamo creato diverse occasioni, una con Malotti, un cross di rosso, per cui poi siamo stati poco incisivi nell'andare a riempire l'area di rigore, quando a volte nelle altre partite siamo stati più cattivi sotto porta. Il commissario, la scafitta a Cesena comunque alla fine ci può anche stare, ora bisogna pensare al prossimo impegno. Il Montevarchi è una gara da vincere in caso? Sì, assolutamente sì, è chiaro. È chiaro, per quello che dobbiamo raggiungere il prima possibile. Dobbiamo preparare la partita come sempre le prepariamo, però consapevoli che affrontiamo una squadra che si deve salvare come noi, per cui c'è lo scontro diretto, lo scontro salvezza e cercheremo di mettere in campo quella determinazione, quella grinta che nell'ultimo periodo stiamo facendo molto bene, per cui partiamo da quell'aspetto lì. È chiaro che meno partite mancano, più anche gli altri risultati diventano decisivi. Oggi diciamo che al di là del risultato del Manuzzi, anche dalle altre parti non è che sia arrivata una grande mano tutt'altro. Sì, è vero, anche le altre stanno prendendo campo, diciamo. Per questo motivo le ultime partite che sono rimaste, soprattutto quelle in casa e con gli scontri diretti che dobbiamo fare per questa di domenica, affermo, per cui ci sono partite dove possiamo sicuramente e dobbiamo dire la nostra per cercare di raggiungere il prima possibile l'obiettivo. L'ultimissima flash. È d'accordo Andrea Cupi quando si dice che 40 punti potrebbero non bastare per la salvezza diretta, che ne servono uno o due in più? Quello è in base sempre ai risultati che vengono dalle altre. È chiaro che noi prima arriviamo al raggiungimento dei 40 punti secondo il punto di vista della classifica e meglio è. Poi se sono uno o meno non possiamo dirlo, io i calcoli non li faccio. Pensiamo soltanto a fare questi punti che servono per raggiungere, ti ripeto, l'obiettivo della salvezza.